Il contabile sta facendo i conti della giornata, non si trova assolutamente. 8,60 euro. Panino, panino, e bira. Dopo cosa avrei pagato? Panino e bira. Dopo? Abbiamo pagato 8 euro per un paio. 8 euro per 60 euro? Per parlare, sai no. Dopo non abbiamo preso più un cazzo? Abbiamo fatto come i frati stamattina? Dico, eh? Sì. Come faremo? Abbiamo fatto i pegrini? I pegrini? I pegrini? Guarda che cazzo dei pegrini. Abbiamo preso 8,60 euro per 20 euro per fare i pegrini. Di certo subie, è il viaggio, che di settemora la fronte. Si dai faremov located polenta? Ma hai Oopsqué no? Inizia la via del cammino per noi, siamo sul ponte Romano a Leon, dove poco distante abbiamo dormito, sono le ore 8 e 10, partiamo per il grande viaggio, ossia Villar di Mazzarizze prima nostra tappa, punto, punto. Tempo meraviglioso, tempo da negri, da soldi, adesso è andato a trovare una signorina che ne fa la foto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un sol che spaga le piede. Guardate, una polvera che non finisce più. Quasi che ne ha salvato il tempo. Guardate, una polvera che non finisce più. Guardate. 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 Guardate.